Siamo con Lorenzo Cannone, Isola Industria, oggi parliamo di acqua, di gestione efficiente. Vuoi anticiparci il tuo intervento di questa mattina? Sì, l'intervento è basato parivalentemente sull'innovazione, quindi la capacità da parte di aziende di produrre e concepire dei prodotti semplici e soprattutto che diano la possibilità in questo caso ai gestori di poter rilevare condizioni quali portate, pressione o tutti i parametri che sembrano per poter gestire bene una rete in maniera semplice, la semplicità quindi la semplicità di utilizzare, la possibilità di poter montare uno specifico gameplay immediatamente e avere già i dati disponibili senza aver bisogno di software o altro, questo è il focus dell'intervento di oggi ed è un po' anche il focus della nostra produzione. Ecco, parlaci un po' della tua azienda, di cosa fai? Sì, Isola Industria è una società assolutamente, completamente italiana, capitale italiana, ha due centri di produzione, di cui uno è a Padova, dove noi produciamo e possiamo dire di essere a questo momento lo stato dell'arte soprattutto per quanto riguarda il misuratore di portata e tomanizia batteria. Noi oltre a produrre, rappresentiamo anche aziende di preparare l'importanza sul territorio nazionale, lo distribuiamo, lo presentiamo e forniamo tutto quello che è l'assistenza tecnica, questo è il concetto, diciamo, mi piace. Grazie Lorenzo Canone, buona giornata, buon lavoro.